Buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, oggi parleremo di studio, memoria e concentrazione. Può l'ipnosi e soprattutto l'ipnosi di CES e il dottor Claudio Saracino incidere, aiutare lo studente sia delle scuole elementari, medie, medie inferiori, superiori e università con l'ipnosi? Sì o no? Sì ragazzi, sì. Non sei obbligato a seguire me se non ti piace, però approfondisci il tema dell'ipnosi, ok? E ti posso assicurare che dire ipnosi non è altro che dire rilassamento della mente e del corpo dove tramite suggestioni che sono parole si cambiano le immagini da negative a positive. Per questo tu a scuola certe volte ti ripeti ah non mi ricordo, non mi concentro, mi distraggo, sono giuccio, è perché qualcuno ti ha instillato nella tua testa queste suggestioni. Ti hai ipnotizzato quando eri piccolino, vanno eliminate, le puoi togliere da solo con l'ipnosi oppure farti aiutare da qualche professionista dell'ipnosi. Poi se non hai voglia di girare seguimi, ti dirò come fare con la tua voce senza mettere la famosa tuta ad uscirtene. Però anche nello studio, nella concentrazione, in tutto ciò che fai, l'ipnosi non è altro che una tecnica neutrale, è un'arte e una scienza. Perché ripeto arte e scienza? Perché è scientificamente riconosciuta dall'Associazione Medica Mondiale come Medicina Alternativa e anche dalla Chiesa e dal mondo scientifico, ok? Per cui non sono altro che parole che incidono sul corpo, sulla mente, sui comportamenti, sull'esistenza, sulla vita, su tutto ciò che puoi immaginare, senza ma e senza se. Perché ti sta parlando qualcuno che non ha soltanto voglia di insegnare, ma di aiutare, perché tutto ciò che io ti racconto l'ho vissuto sulla mia pelle, direttamente e indirettamente. Quindi hai davanti a te un qualcuno che per circa 10 anni, per non dire 20, 10 da ipnotista, ipnologo, ipnoterapista professionale, ha sperimentato tutto ciò che racconta in questi video. Fammi tutte le domande del caso, i tuoi dubbi sullo studio, la memoria, la concentrazione, tu puoi passare da 3 a 10 in un secondo. Il merito sa di chi è, non è dell'ipnosi, è della tua testa. E oltretutto non ha effetti collaterali, tutti i migliori personaggi accreditati, importanti hanno utilizzato e utilizzano l'ipnosi, eccetera, eccetera, eccetera. Non ha, ripeto, nessun pericolo la parola, altrimenti dovresti aver paura anche di chi ti circonda, no? La tv, i social, il più ne ha più ne metta. Soltanto sono parole fatte con arte, mirate ad hoc, create e disposte in un certo modo. Visita la mia fanpage su Facebook, ipnosi, auto-ipnosi del dottor Claudio Saracino, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, iscriviti su questo canale YouTube, benessere ipnosi, soluzione DCS del dottor Claudio Saracino, visita anche i miei profili Instagram e Twitter, benessere ipnosi, soluzione DCS del dottor Claudio Saracino. Un bacio e un abbraccio.